Sarebbe scattata in seguito a un controllo antidroga la rivolta esplosa nel pomeriggio di mercoledì al carcere Beccaria di Milano, un controllo in seguito al quale sarebbe stato operato un sequestro di stupefacenti ritrovati dai cani antidroga. La protesta a quel punto sarebbe stata fomentata da alcuni detenuti che avrebbero trascinato altri giovani a rimanere in cortile rifiutandosi di fare rientro nelle proprie celle. La rivolta è poi rientrata nel giro di un'ora e mezza dopo l'arrivo delle squadre antisommosse inviate dalla questura. Nessun ferito ma alcune celle sarebbero state pesantemente danneggiate. L'ennesimo episodio critico al Beccaria ha scatenato numerose reazioni. La CGL parla di una situazione grave e ha chiesto un incontro alla direzione per discutere dei problemi del carcere minorile. Secondo l'associazione Antigone, che si batte per i diritti dei detenuti, quella di mercoledì non è stata una rivolta ma una protesta, influenzata dal fatto che, dopo l'inchiesta su presunti maltrattamenti in cui sono indagati numerosi agenti di polizia penitenziaria, in passato in servizio presso la struttura, vada ricostruita la fiducia verso l'istituzione. Prende una posizione netta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che chiede un intervento del governo e parla di una situazione lasciata andare, dopo dieci anni in cui il Beccaria non ha avuto un direttore. Questa è la prova provata, ha detto Sala, che quando lascia andare le cose va a finire così. Immediata la risposta del governo con il sottosegretario Andrea Ostellari, che ha affermato che in poco meno di 18 mesi questo governo ha fatto per il Beccaria più di quelli che lo hanno preceduto negli ultimi dieci anni. Ostellari invita la calma abbracciando la tesi dell'Associazione per i diritti dei detenuti. Come ha specificato l'Associazione Antigone, ha dichiarato quella di ieri non è stata una rivolta ma una protesta per quanto accesa, senza violenze e senza feriti. Soffiare sul fuoco, conclude Ostellari, non aiuta né gli agenti né gli educatori né i detenuti.